E' cominciata ad oggi la nuova stagione sportiva per il Gela Calcio, un altro anno da vivere assieme ai colori bianco-azzurri, un altro anno che si preannuncia ricco di soddisfazioni e irto di difficoltà, così come accade da sempre. E così come è sempre accaduto il Gela ha ottenuto risultati straordinari, riuscendo a superare ostacoli a prima vista insormontabili. La società, capitanata dal presidente Angelo Tuccio dopo la mara rinuncia alla Lega Pro, è ripartita dai campi polverosi e l'ascesa è stata semplicemente straordinaria. Promozioni su promozioni. Adesso c'è il torneo di Serie D, finalmente si oltrepassa lo stretto di Messina. Si giocherà su campi di città importanti e contro squadre di un certo blasone. La D non è l'eccellenza, è giusto chiarirlo, così come l'eccellenza non era la promozione. E nel torneo di eccellenza sappiamo tutti com'è finita. Un Gela che era partito malissimo, che poi ha corretto il tiro e alla fine ha conquistato il salto di categoria. E lo ha fatto attraverso l'impegno di un assedio condottiero che corrisponde al nome di Totò Bruculeri, riconfermato giustamente anche per la prossima stagione. E lo ha fatto grazie alla tenacia, ai muscoli e alla testa di giocatori che hanno sudato la maglia. Ci riferiamo al centrocampista e capitano Bonaffini, al centrale di difesa Campanaro e agli attaccanti Alma, Mincica e Nassi, tutti riconfermati. Bisogna fare un plauso anche a chi non rientra più nei quadri tecnici, anche loro hanno dato il loro contributo. Allo zoccolo duro il club ha aggiunto un elemento di indubbia e spiccate qualità. Lui è l'attaccante Santino Biondo, prelevato dalla Rocca di Caprileone in eccellenza girone B. Il suo obiettivo da visita è di tutto rispetto, 22 gol nell'ultima stagione, un centravanti che riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca. A giorni sono previsti altri botti di mercato. Ricordiamo che quest'anno in Serie D è obbligatorio avere 4 under in campo, un giocatore nato nel 1996, 2 nel 1997 e 1 nel 1998.